Verranno acquistati nuovi autobus urbani per il rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l'introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo nell'ambito del POFESD 2014-2020 dell'agenda urbana ADN Caltanissetta Polo Urbano Centro Sicilia. E' stato ammesso infatti a finanziamento il progetto di 1.491.030,88 euro che permetterà di acquistare dei mezzi meno inquinanti e per l'esattezza 625.920 euro al netto dell'IVA per tre autobus urbani corti a gasolio Euro 6 con precise caratteristiche come una postazione per le persone con disabilità con pedana manuale o la guida a terra con cricchetti per fermo carrozzina, il dispositivo per il conteggio dei passeggeri in salita e discesa e per la validazione elettronica dei biglietti, sistema di videosorveglianza interno, rilevamento della posizione del mezzo durante la corsa, installazione di un modem router Wi-Fi per la connessione ad internet e ancora indicatori di linea e di percorso a led ultraluminosi di colore bianco o giallo. Vengono richiesti anche particolari requisiti per quanto riguarda la cabina di guida, i rivestimenti interni, porte, vetratura, illuminazione interna, riscaldamento e reazione, sedili, scritte, segnaletiche, strumentazioni e ulteriori accessori. Caratteristiche precise che vengono richieste anche per un autobus urbano corto ed ettrico destinando un importo di 332.560 euro sempre al netto dell'IVA e uno cortissimo elettrico per un importo di 243.059 euro al netto dell'IVA.